Ieri abbiamo approvato il piano attuativo delle loggie dei tiratori, quindi diciamo che da questo punto di vista il percorso anche su un piano formale si è completato. Io ho insistito sin dal primo momento non solo perché l'ANXA attraverso il suo gruppo di lavoro tecnico ci desse un contributo anche diciamo così di professionalità, di competenza su questo progetto ma perché le loggie venissero inserite nel quadro strategico per fare di esse un elemento comunque a valenza pubblica, di interesse pubblico che facesse parte del sistema del nostro centro storico quindi in quel caso facesse parte di quel polo espositivo convennistico promozionale che è rappresentato dalle loggie stesse dal Palazzo del Turismo di Via della Repubblica e dalla Centro Servizi Santo Spirito. Mi rendo perfettamente conto e non è che questo percorso sia stato semplice per nessuno di noi a partire da me, nella mia stessa coalizione ci sono state come dire voci critiche anche di dissenso comunque problematiche rispetto alla soluzione progettuale. Quando si interviene su monumenti di quella natura è evidente che ci siano delle difficoltà nel trovare le soluzioni migliori. Io ho detto che le cose vanno affrontate in maniera laica non ritengo che l'antitesi vetri non vetri sia una questione di rapporto tra civiltà e barbarie rispetto chi ritiene che non sia la soluzione migliore perché magari si pensa a operazioni progettuali diciamo di natura diversa. Io ho posto questo interrogativo anche a questi tecnici del gruppo di lavoro dell'ANXA e loro mi hanno detto che per operare una conservazione attiva e una valorizzazione di quel monumento la chiusura la reputavano diciamo così pressoché indispensabile e hanno affermato appunto la plausibilità dell'intervento. Ecco io credo che dobbiamo rimuovere da questa vicenda tutti gli elementi di dietrologia quelli complottistici, quelli diciamo così torbidi e cioè c'è un percorso di un certo tipo, c'è stata una discussione anche conflittuale molto tesa c'è una soluzione che può dare alla città non solo un grande investimento perché parliamo di alcuni milioni di euro può dare alla città un luogo per valorizzarla e per farne diciamo così uno dei poli importanti della promozione turistica e sulla soluzione progettuale io ho sentito anche tanti esperti avere pareri discordanti perché come è noto, basti pensare alla vicenda dell'Arapacis che anche l'architetto Gaetano Rossi in questi giorni richiamava sono quegli interventi che lasciano sempre una scia di discussioni, di dibattiti e di contrasti però ecco io mi auguro che questi possano essere superati nel momento in cui vedremo diciamo così anche la positività e l'incidenza di un'operazione che noi vogliamo assolutamente abbia una valenza pubblica.